800.000 euro all'aeroporto d'Abruzzo, questi fondi stanziati dalla regione per favorire la ripresa dei traffici aerei. Il finanziamento sarà volto al potenziamento delle rotte turistiche e commerciali dall'Abruzzo verso destinazioni strategiche nazionali e internazionali. Entro il 15 novembre la Saga, Società Abruzzese Gestione Aeroporto, pubblicherà un apposito bando di gara, individuando le rotte, la frequenza dei voli, i volumi dei passeggeri attesi e i tempi di erogazione dei fondi. Con le limitazioni agli spostamenti causa pandemia, tutti gli aeroporti da nord a sud della penisola hanno subito un crollo del numero dei passeggeri. In quello abruzzese, se da gennaio ad ottobre 2019 erano transitate oltre 600.000 persone, quest'anno ne sono state solo 160.000, 440.000 in meno per una vertiginosa perdita del 72%. Ma negli altri scali italiani, da quelli più grandi a quelli più piccoli, sottolinea il presidente della Saga Enrico Paolini, la perdita è stata di circa l'80%. Se il trend verrà confermato, conclude Paolini, a fine anno arriveremo a perdite di poco più di 500.000 passeggeri. E la Saga chiede ulteriori risorse per il rilancio dello scalo abruzzese. Un vero e proprio recovery plan, un piano straordinario della durata di due anni che dovrebbe rappresentare la svolta del dopo pandemia. La proposta sarà inoltrata al socio della Saga, ovvero la regione Abruzzo.